Ho fatto un sogno stanotte, dottore. Ero in un teatro. Mi chiamavo Giulietta e avevo 15 anni. E la mia famiglia organizzava una festa in maschera perché voleva farmi conoscere questo giovane di nome Paride. Ma mi imbattevo in un ragazzo stupendo che si chiamava Romolo, Romano, Romeo! Ecco, Romeo! Era subito un colpo di fulmine. Ma all'improvviso cominciava a cadere della spazzatura dal cielo su di noi. E io sapevo che quella era la punizione divina delle nostre famiglie perché non volevano che noi ci innamorassimo. Ma era troppo tardi perché noi ci eravamo innamorati al primo sguardo. E infatti tutta quella spazzatura prendeva delle forme scultore e meravigliose che inneggiavano al nostro amore. Ma le nostre famiglie proprio non volevano che stessimo insieme. Addirittura si sfidavano a duello e ci osteggiavano in ogni modo. E io ero diventata verde di rabbia! Poi però mi trovavo su un balcone da sola e Romeo non c'era. E in quel momento guardavo giù dal mio balcone e lo vedevo che stava facendo il giocoliere per me. E io ero ancora più innamorata. Che cosa significa, dottore? Non lo so, io mi sento come contaminata. Artisticamente contaminata? È grave? Dottore. Chau. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.